Antonella Bellutti guida la carica alla ricerca dei 1500 volontari che saranno impegnati nella prossima edizione invernale delle Universia di Trentino del prossimo 2013. È la due volte campionessa olimpica Antonella Bellutti a guidare la carica dei 1500 volontari impegnati nell'edizione invernale delle Universia di Trentino 2013 in programma dall'11 al 21 dicembre del prossimo anno a Trento. Sul monte Bondona, Pergine, Baselga di Pinene e le valli di Fiemme e Fassa. Personaggio di spicco in campo mondiale nel mondo dello sport, oltre agli ori di Atlanta e Sydney nel ciclismo, vanta anche una presenza ai giochi invernali di Torino 2006 nell'affascinante disciplina del Boba 2 femminile. Antonella è oggi anche testimonia le anima del progetto Unisport dell'Università di Trento, personaggio ideale quindi per gestire questa nuova grande ed affascinante avventura. Intanto nel giardino della Facoltà di Trento di Economia è in corso il Festival Unisport 2012, dagli sport tradizionali alle novità come il volteggio a cavallo. In programma prove di baseball, basket, vela, vola a vela e mountain bike, insomma tutte le proposte in programma per l'anno accademico appena iniziato. Grazie mille. Grazie a tutti.